Ciao a tutti, da me e dal bellissimo Cagliati, natura morta dietro alle mie spalle, vi do di nuovo il buongiorno. Oggi abbiamo Osella, lo stracchino. Questo stracchino in particolare scade dopo domani, quindi abbiamo delle grosse aspettative per questo stracchino. Come sempre, tradizionalmente lo spacchettiamo e poi lo andiamo a valutare secondo i tradizionali e ormai canonici criteri di valutazione. Gli immutabili canoni sono sempre quelli. Consistenza, sapidità e dolcezza oppure rotondità. Allora, la consistenza è buona. Certo, mi aspetto molto di più da uno stracchino che sta per scadere fra due giorni. Poteva essere migliore, tre. Non è quasi per niente sabido. Carmela sta sopra. Leon si spaventa quando non trova Carmela, perché è la sua amichetta del cuore. Non è per niente sabido, ha forse un accenno di sale, ma decisamente troppo poco per i miei gusti. Io ho un 2 sulla sapidità. Però è davvero dolce, ha un ottimo sapore. Leon! Carmela sta sopra. La dolcezza, tu. Mo' ti tiro di sotto. Non si esce. Sei stato fino a mo' fuori. No. Fino a mo' sei stato fuori. E che cavolo. Dalle 6 del mattino che stai fuori. Rietrata 10 minuti fa, già. La dolcezza è un 4. Abbiamo così un 9. Non dei migliori stracchini, ma neanche dei peggiori. Lo stracchino è sempre buono, quindi... E' letteralmente il formaggio perfetto. Ah, vedi per... Grazie a tutti per aver visto questo video. Lo stracchino è davvero la manna dal cielo. Comunque è sempre buono. Ti stai infatti un giorno oggi? Un momento ti stai calmo oggi? No. Vai. Trova tua sorella. Quindi ci vediamo alla prossima recensione.